Ciao, buonasera, certo, accomodati pure, ah sì, un momento che controllo l'appuntamento perché a volte la mia segretaria combina dei pasticci, quindi vediamo, ok, ecco di qua, sì, 17,30 certo, possiamo pure iniziare, allora, dimmi il tuo problema, ho capito, ok, sì, capogiri, certo, ah, sì, continuo, continuo pure, ti ascolto, ti ascolto, ti ascolto, ok, 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 quindi hai questo problema di sociopatia, tipo, no, no, assolutamente non è per nulla un caso isolato, cioè, di persone sociopatiche ce ne sono veramente molte, 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 quindi non direi esattamente che questo sia un caso isolato, allora, no, 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 assolutamente no, allora, partiamo con il presupposto che io qui nel mio studio voglio rompere le barriere che si vengono a creare tra il paziente e la psicologa, lo psicologo in generale, esatto, quindi per questo mi vedi vestire normalmente, per questo non mi vedi con dei vestiti, a parte delicato, però per questo non mi vedi tossare il capice bianco, per questo non mi vedi, insomma, ho creato un ambiente familiare con delle luci soffuse in sottofondo, queste lucine che credo che hanno delle proprietà rilassanti, in qualche modo una persona non sente quello stacco che c'è in un comune studio medico, quando ci si va a sedere in uno studio medico con un medico davanti, con il camice bianco, veramente molto formale, stessa cosa per quanto riguarda lo studio, quindi quello che voglio fare io prima di tutto è creare un ambiente molto molto tranquillo, instaurare un dialogo molto tranquillo, perché in primis è molto importante questo, una persona nel momento in cui ti decide di aprirsi con un'altra persona, nel mio caso sono io, una persona che prende questa decisione si trova in un momento in cui si sente a disagio il parlare dei propri problemi con una persona estranea, quindi io cerco di rompere queste barriere che si vengono a creare tra medico e paziente e io cercherò di essere la tua amica, ok? Quindi prima di tutto noi dovremmo essere amiche, ok? Quindi prima di tutto amiche, sì, ecco così ti viene proprio più naturale il fatto di doverti aprire e dirmi insomma tutto quello che ti fa stare male, perché adesso che tu hai parlato ho notato che ancora leggermente hai qualche dubbio, ti tendi un pochino a dire le cose più intrinse che si nota, quindi io ti invito ad essere veramente te stessa e a non preoccuparti veramente di nulla, perché io sono qui apposta per aiutarti, ok? Perciò rompiamo tutte le barriere dei medici, io sono vestita così, ho il mio gatto qui, ho il mio gatto qui anche per questo motivo, perché è molto importante creare un ambiente calmo, è rilassato e credo che gli animali contribuiscano molto a questa cosa, specialmente avere un animale in casa aiuta molto a non soffrire per qualunque tipo di patologia, quindi diciamo che gli animali edulcorano molto nel momento in cui abbiamo un problema, insomma, certo, certo, quindi ti invito a raccontarmi di nuovo le cose che ti fanno stare proprio male e ti ascolto senza interromperti, ascolterò tutto, stavolta cerca di essere veramente completa in tutto, altrimenti poi dovrò farti io delle domande per vedere di estrapolare appunto le cose che tu magari non puoi dirmi. Io sono qui. Allora... Io sono qui. Allora, io in qualità di psicologa posso solo aiutarti tramite la psicoterapia che molte 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 a veramente un valido supporto per questo tipo di problematiche e questo tipo di problematiche Nel caso queste problematiche si intensifichino, devi consultare uno psichiatra perché lui è in grado di prescriverti i farmaci eventualmente certo noi ora proviamo prima con la psicoterapia io sono sicura invece che con la psicoterapia saremo in grado di mandare via del tutto questo problema dell'ansia, della depressione sì, di questa sociopatia tranquillità, è una cosa molto enorme ok? ok, allora tu hai detto che soffri molto di ansia nel momento in cui ti trovi da sola per lunghi periodi insomma stai in casa da sola senza avere comunque un contatto con qualcuno nel momento in cui magari hai il weekend libero non sei al lavoro ma ti dedichi un po' a essere a casa quindi a rilassarti però rilassandoti cioè il relax il relax per te magari potrebbe durare una mattina o una serata di pomeriggio però non due o tre giorni consecutivi quindi dal momento in cui ti senti così dal momento in cui mi hai detto che non hai insomma una compagnia fissa io ti direi di sfagarti ovviamente con tua madre avrai sicuramente un rapporto cioè ecco quindi prima di tutto vai a cercare tua madre quindi in quei giorni in cui sei sola eccetera cerca tua madre passa da lei e state assieme nel momento in cui ti stai sentendo sola nel momento in cui stai soffrendo ti sta venendo un attacco d'ansia cerca di non pensare all'attacco d'ansia all'ansia di per sé e cerca di sfogare cerca di uscire di non pensare a quello che ti fa stare male ok? ecco prima di tutto parti così poi l'ansia ti fa sentire tutte quelle cose là tutto quel come posso dire ti fa sentire quei problemi al cuore di respirazione quei problemi di capogiri tutti quei problemi là sono correllati all'ansia quindi l'ansia agisce in questo modo allora precisamente l'ansia ti fa avvertire dei sintomi che in realtà non esistono nel senso i problemi di cuore non ce li hai però l'ansia te li fa sentire quindi ti fa credere di avere dei problemi al cuore ti fa credere di avere dei problemi di respiro malgrado tu non ce li abbia quindi ecco possiamo fare la metafora possiamo fare la metafora del del miraggio una cosa crediamo di vederla ma in realtà non c'è quindi l'ansia è come un miraggio ci fa credere di vedere di sentire quelle cose che in realtà non c'è perciò io credo che prima bisogna abbatterla da questo punto di vista quindi non ci devi pensare nel momento in cui stai sentendo un attacco d'ansia in primis non devi pensarci prima di tutto devi gestirla quindi non devi vederla sempre come una cosa negativa la devi gestire l'ansia è comunque un campanello d'allarme nel momento in cui tu stai vivendo una situazione di stress il tuo corpo è stressato per qualche ragione che poi tu andrai comunque a ricavare da tutto quello che stai passando in un determinato periodo capito? ecco quindi quindi l'ansia non è altro che questa è semplicemente la manifestazione dello stress e del nervosismo ecco capito? nel momento in cui stai sentendo l'attacco d'ansia devi cercare di distrarti distraiti inizia a contare o cerca di guardare la tv o ascolta musica cominciano a distrarti sì esatto qualunque cosa tu stia facendo ecco brava fai qualcosa che ti faccia sentire bene che ti faccia sentire felice che non ti faccia pensare a niente sì sì qualcosa che ti faccia svagare qualcosa che ti distrae letteralmente capito? ecco quindi ricapitolando l'ansia è solo un miraggio sì sì perché io ci sono passata prima ma tero più ragazzina ci sono passata ovviamente le soffro anche a testo ma la so gestire non è nulla ormai per me quindi sì ovviamente sono i primi pericoti che qualcuno l'ha sprovvisto una persona e non sa come reagire perché è la prima volta che si trova a fronteggiare questo tipo di problema quindi è assolutamente comprensibile e sappi che come te ci sono altre milioni di persone perché ormai è diventata una cosa molto molto diffusa sì 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 esatto per quanto riguarda la depressione allora i miei consigli sono prima di tutto la depressione è strettamente correlata al fatto che tu non abbia amici al fatto che tu passi i tuoi weekend oltre al lavoro che svolgi che scusate una domanda non voglio farmi gli affari tuoi però comunque mi serve perché il lavoro allora quando tu sei sul posto di lavoro coltivi delle amicizie o comunque cerchi di startene per fare i tuoi insomma cerchi di concentrare di più sul lavoro o nella pausa pranzo nelle pause che comunque ci sono durante il lavoro ti dedichi anche alla conoscenza dei diversi dipendenti del insomma del settore nella quale lavori quindi ti concentri di più sul lavoro oppure vabbè queste persone si trovano ovunque comunque le persone che stanno contro di te per un motivo insolito un motivo che non sanno nemmeno loro credo sia semplicemente il miglio di quale cosa quindi il momento in cui una persona si comporta in maniera distaccata nei tuoi riguardi c'è un motivo di fondo ricordalo sempre perché una persona non può agire così nei tuoi riguardi senza motivo esatto esatto eh sì bravissima brava ecco però ritornando a noi il mio consiglio è per quanto riguarda la depressione che è correlata a questo fatto che tu non esca e che non abbia dei rapporti dai ragazzo almeno ah ok ho capito ce l'hai ma vive lontano pure lui insomma è tutto un collegamento io ti direi allora ora che mi hai detto questa cosa ti direi di trovare soluzione andando a vivere lì dove si trova il tuo ragazzo trova un lavoro oppure lì non importa se ci vorrà del tempo all'inizio l'importante è che tu stia bene perché non puoi perdere la salute in questo ambiente se non ti ci trovi capisci non puoi perdere la salute tu sei più importante ok andrà tutto bene sappi che andrà tutto bene nel momento in cui tu ti troverai a prendere la decisione di trasferirti dal tuo ragazzo nel momento in cui prenderai questa decisione di iniziare a frequentare dei luoghi sociali intendo come la palestra brava la palestra dei corsi scuole di ballo certo diversi corsi che si possono comunque frequentare lì cominci a instaurare dei rapporti già con delle persone inizi a parlare devi comunque andare in ambienti che implicano il fatto che tu debba essere socievole nel mio caso io da piccola frequentai una palestra di ballavolo e non mi ha aiutato la cosa perché insomma era una palestra creata da ragazze che credevano di essere le regine della palestra che la ballavolo aspettasse solo a loro però la ragazza che conoscevo io una ragazza che era una mia amica a quell'epoca riuscì a risolvere il problema della timidezza frequentando questa palestra ecco con me non ha funzionato perché come dicevo prima le ragazze si comportavano in maniera un po' strana e quindi non ha funzionato perché come ho detto prima sicuramente avranno nutrito dei sentimenti di invidia nei miei riguardi quindi vabbè io qua mi sono concentrata di più sulla scuola era veramente molto molto piccola quindi 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 io ti propongo queste due cose allora o ti iscrivi ad una palestra o ad un corso o ad una scuola di ballo o qualunque posto che implica il fatto che tu debba essere socievole che tu debba parlare con qualcuno si si poi in tal caso non funziona se ci sono sempre io qui ok io sono sempre qui per ogni problema il mio telefono ok si ti do il mio numero di telefono un momento che si allora ok allora tieni ok allora quello è il mio numero è il mio consiglio è nel momento in cui ti senti sola ti sei sentendo male hai bisogno di aiuto scrivimi io di solito rispondo sempre a tutti quanti mi sono di serio non è solamente un modo di dire giura si 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 io rispondo sul serio a tutti rispondo a tutti allora quindi tieni proprio in mente che l'ansia non è nulla l'ansia non ti farà nulla ok tieni in mente questa prima questa cosa poi ricordati che la depressione andrà via nel momento in cui ti impedirai a sconfiggerla assieme all'ansia è tutto uno stretto collegamento quindi sconfiggi l'ansia sconfiggi la depressione sconfiggi la solitudine sconfiggi tutto se vuoi ripeto vuoi scrivere a me anche se magari secondo i tradizionalisti questa non è una cosa molto professionale io però voglio abbattere come ho detto prima queste barriere che ci sono tra paziente e medico e cercare di aiutare una persona a 360 gradi mi impegno a farlo quindi quando vuoi veramente potremmo anche non lo so vediamo se poi riuscirò a combinare qualcosa così ti aiuto a conoscere altre persone perché molto spesso io partecipo a dei meeting partecipo anche a delle riunioni che fanno anche nel teatro diciamo quando parlano di cose che mi interessano molto quindi vuoi venire con me alla parrucchiera si cambiare look dedicarti ai capelli cambiare immagine tutto il resto aiuta anche molto a sentirti bene con te stessa certo esattamente brava brava capito ecco sì certo la prossima volta ti basta chiamarmi o per uscire o per dirmi che ti stai sentendo un po' male o anche per fissare un appuntamento quindi il mio numero ce l'hai è lì e quando vuoi mi puoi chiamare e io sono sempre qui va bene? certo va bene stammi bene ok? ci sentiamo presto ciao ciao